Allora adesso, perché oggi nello studio di storia italiana accadranno delle cose, delle magie Allora insieme alla piccola Elisa e a Giulia veniamo qua così Andiamo a vedere che cosa succede perché fra un po' arriva un maghetto Allora, mettiti qua vicino a me, vicino a me Ecco qua, perché arriva un mago gentile 3, 2, 1, magia Grazie 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 Direttore Queste le magie ci piacciono a quest'ora No ma è bello, guarda questi bambini sono meravigliosi Perché poi c'è una dimensione poi dell'infanzia che va anche tutelata No? Grazie 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 Grazie